Il modo in cui lavoriamo sta diventando non solo un modo favoloso di lavorare, ma è il modo migliore per una persona qualunque di poter avviare un'attività propria. Chi altro vi permetterebbe di avere un'attività tutta vostra? Anche se non voleste aprire un negozio di estetista, vi ci vorrebbero 25.000 o 100.000 dollari e concentro per il kit distributore o un po' meno, un po' di più a seconda della vostra zona, avrete il prodotto, starete bene, vi sentirete bene, avete il miglior piano di marketing del secolo, noi gestiamo tutto per voi, vi entusiasmiamo, entusiasmiamo la vostra organizzazione e voi dovete solo parlare con delle persone, dei prodotti, delle opportunità e al resto pensa Herbalife, non dovete fare altro. è la migliore chance di successo per una persona qualunque ed è per questo che così tanti hanno successo con Herbalife, perché abbiamo i prodotti migliori del mondo, abbiamo il miglior piano marketing del mondo, la migliore opportunità del secolo con un marketing mondiale, abbiamo la migliore leadership di qualsiasi altra azienda, abbiamo più distributori giovani, belli ed entusiasti di qualsiasi altra azienda al mondo.